Questo canale contiene i miei personali opinioni, se non siete in grado di farvi una risolta, si sente che c'è, quindi era una cosa buona, però devastante, funziona per rotondare che era una cosa buona, devastante, stupefatto, mettete like al video se vi è piaciuto, commentate sotto nei commenti, seguitemi anche su Instagram, sul canale Telegram, il dinario dello svappo, consiglio di non guardare il video. Buonasera ragazzi, bentornati in un nuovo video del Piedinario dello svappo, questa sera proverò assieme a voi la Topside Light Mod di Dovpo, che mi è stata gentilmente mandata da Sourchmore, allora andiamo subito a vedere cosa c'è dentro la nostra scatola e vediamo come funziona. Ecco qua ragazzi la nostra boxettina, è abbastanza grande, però è fatta da dio. Chiediamo la nostra tazza con il foro per il bottom feeder, facendo questa piccola operazione, si apre e da questo lato abbiamo la boccetta dello squonk, morbida. Ora stappando la vite qua sopra possiamo andarla a ricaricare, ora richiudo un secondo. E tramite questo foro qui al centro, all'interno, e questo pistolotto con la sua guarnizione, noi andiamo ad accoppiare le due parti e squoncando di qua andiamo a portare il liquido nel nostro atomizzatore. La cosa geniale è che noi possiamo togliere la parte BF e mettere quest'altra parte che ci danno a corredo, dopo ovviamente aver svitato questo pistolotto, e abbiamo una box normalissima. Questa possibilità che ci hanno dato, secondo me è una cosa geniale. Andiamo ad accenderla, vediamo che il circuito è proprietario e va da un minimo di 5 W a un massimo di 90 W. Adesso andiamo a rimontare la parte BF, vi faccio vedere che anche all'interno noi possiamo mettere una 18650 con la sua sleeve, oppure toglierla e mettere anche batterie più grandi. Andiamo quindi a mettere il nostro pistolottino e a riappoggiarci la parte per il BF. Ovviamente dentro la scatola abbiamo anche il nostro cavetto per la ricarica e una bustina con due ricambi di quella parte che si monta e si smonta in silicone. La prima cosa che farò sarà smontare il tappo e caricare di liquido. Io sto utilizzando il JK Barrel, che è il liquido che ho fatto con la tabaccheria, che è il mio tabacca al whisky. Ormai famoso in tutto il mondo e anche oltreoceano. La capienza di questa boccetta è tanto. Quindi abbiamo un'autonomia mostruosa. Se calcoliamo anche che possiamo mettere delle batterie, credo, fino a 21700, se utilizziamo liquidi che non sporcano possiamo tranquillamente essere a posto per un giorno, dalla mattina alla sera. Una volta fatto questo, vado a montare sopra il mio atomizzatore. In questo caso uno speed, revolution, che ho appena rigenerato. E andiamo a vedere il risucchio se va bene. Scunchiamo, madonna. Funziona ragazzi alla perfezione. Ora non ci resta che andarlo a provare. Notevole. Allora. Una cosa strana è che è molto 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 leggera ed è anche molto grande. Usata in questa configurazione, quindi in bottom feeder. E devo dire che se la utilizzate in bottom feeder per uno svappo di guancia, potrebbe risultare quasi troppo grande. Perché vi fa un po' strano. Mentre per uno svappo da flevo, rope da polmone, non c'è problema. Quindi va bene. Fa leggermente strano. Sicuramente è soltanto una questione di abitudine. Per quanto riguarda l'erogazione, vada Dio. È iperreattiva. Lo squonk funziona bene. È un buon risucchio. E si sente che non fa il colpo a vuoto. Quindi è progettato molto bene. L'idea di poterla smontare e rimontare senza la parte BF, quindi usandola solamente come box, secondo me è una cosa comodissima. Veramente comodissima. Se devo trovargli un difetto, è quello che i watt sono regolabili solamente da 5 in 5. Cosa che per uno svappo a polmone o se lo usate in flavor non c'è assolutamente problema. Cioè un watt in più e un watt in meno non si sente neanche. Se lo usate per uno svappo di guancia si sente di più, però va bene lo stesso. Io credo che la userò tranquillamente tutto il giorno così. È molto bella, è molto bella. Chiedo una nostra presa USB per la ricarica. Il circuito ha un'erogazione molto valida. E devo dire una cosa, si sente molto con lo speed dell'erogazione. Perché un'erogazione stabile ti fa rendere diversamente anche la Roma. Il prezzo è sui 50 dollari, 45 dollari. Quindi è molto economica. Ed è una BF che per chi non sa vuole provare BF. Però non sa se gli può piacere. Comunque ha una box che funziona da Dio e la può usare senza questa parte. Secondo me, e anche, soprattutto una persona come me, che ha tante cose, però vuole avere questa comodità qui. Secondo me è buona. Io come vuoto gli do un 8 su 10. Per il semplice fatto che è figo che ci può stare una 21-700, però questo qui ti va a fare la box più grande. E per chi come me, cioè per chi non come me, ha le mani un po' più piccole, secondo me si trova fra le mani una box molto grande. Per me non c'è problema, a me piace avere queste mattonelle. No, però è totalmente promossa. C'è anche il peso, è ridicola, pesa veramente poco. L'unico peso che c'è è quello della batteria, quindi strapromossa. E vi ricordo che è stata fatta da Dove Poe, ma è stata disegnata da TVC Channel, da Brian, è scritto proprio qua sotto. Designed by the Vapor Chronicles. E secondo me è un buon design, mi piace, mi piace. Detto questo ragazzi vi saluto, vi invito a mettere mi piace al video, o non mi piace al video, è indifferente quello che vi è più comodo. Commentate sotto nei commenti, condividete il video. Vi ricordo Sourcemore, dove potete acquistarla. Se siete interessati al JK Barrel, Farmacondo, Cordice Sconto, Piadinaro 10. Seguitemi anche su Twitch, dove farò tutte quante le live al link qua sotto. E vi saluto e vi auguro una buona serata. Non ha reso, non ha reso.